Al di là del grigio di Massimo Maid Prefazione La verità è là fuori Chi non ha mai visto o almeno sentito parlare della serie televisiva di X-Files? Se state leggendo questo libro, molto probabilmente siete a conoscenza di ogni più piccolo segreto del telefilm. Lo avete divorato tutto o in parte, visto e rivisto più volte, oppure non avete guardato nemmeno una puntata, ma sicuramente ne avete sentito parlare almeno una volta nella vita. Probabilmente quello che ricorderete più di ogni altra cosa è la sigla iniziale, composta da Mark Snow, che ha inquietato e anche terrorizzato molti di coloro che l'hanno sentita quando erano bambini o ragazzini, come nel mio caso. Avevo infatti 15 anni quando nel 1994 vedevo per la prima volta comparire in TV quella sequenza di immagini distorte, tesserini dell'FBI con i nomi di Fox Mulder e Dana Schelley, rispettivamente David Dukovny e Gillian Anderson. Strani volti alterati, creature in formazione, e l'ombra deambulante ripresa dalla telecamera a circuito chiuso. Diciamocelo, era angosciante, ma era soprattutto la musica a rendere tutto ancora più sinistro. Sfido chiunque a non riconoscerla tra milioni di sigle di serie TV nate negli ultimi vent'anni. Per inciso, è la suoneria del mio telefono. In ogni caso, non è mia intenzione tediarvi, anche se io ne parlerei per ore, con la storia e i vari retroscena dell'intera serie di X-Files, così come sarebbe impossibile non citare almeno fugacemente il nome di Chris Carter, l'ideatore della serie che, bene sì, riguardo puntualmente ogni anno, dalla prima all'ultima stagione, da ormai 15 anni. Fate un po' voi i conti. Tutta la storia della serie verte intorno a quella che nel gergo cinematografico si chiama mitologia. Ma giuro, ve la farò molto breve. Fox Mulder è un agente dell'FBI che sin dall'Accademia si ritrova affibbiato il soprannome di The Spooky Mulder, lo spettrale Mulder. Per le sue teorie bizzarre circa i fenomeni inspiegabili e per la particolare predisposizione a far rizzare i peli delle braccia ai suoi colleghi quando attacca con il pistolotto paranormale. Ma per quale motivo Mulder è così orientato alla sfera dell'inspiegabile? Semplice. Sua sorella è stata rapita dagli alieni sotto i suoi occhi quando non erano che dei ragazzini. E così il nostro eroe cercherà incessantemente la verità per decenni, mettendo insieme le prove dell'esistenza di entità extraterrestri. Arriverà a scoprire che alcuni di loro sono addirittura in combutta con il governo degli Stati Uniti. Il tutto in un marasma di mezze verità, false piste e una stravagante narrazione che rende la trama ancora più surreale dei temi trattati. Vi faccio un esempio. Se Mulder e Oschelli stanno per morire a causa di qualche malefatta del governo, nella puntata successiva la storia non va avanti e si passa a una puntata classica dove sembra regnare quel che è stato è stato e tanti saluti, come se niente fosse mai successo. Poi il tema viene ripreso dopo qualche episodio, certo, e tutto torna ad essere cupo e misterioso come quando c'eravamo lasciati. Bizzarro e dir poco. Vi avviso, se non avete mai visto X-Files, sta per partire lo spoiler. Spoiler. Nella mitologia della serie si trovano elementi spesso molto confusi. Non si sa se questo tipo di narrazione sia stata adottata appositamente per rendere il tutto ancora più intricato e di pesante digestione, ma a volte succede che quello che si crede che sia assolutamente chiaro venga ribaltato dopo qualche puntata o dopo una sola stagione. Capita che si incontrino svariati deep throat, gola profonda, e un tabagista incallito che sembra muovere i fili dei destini del mondo svicolando nell'ombra e che, tra una cosa e l'altra, sembra abbia fatto fuori persino Kennedy. Ma chi se ne frega, perché poi salta fuori che molto probabilmente è il padre di Mulder. Colpo di scena! Ecco una di quelle cose che più detesto in un film o telefilm che sia. Ma è l'unico neo, almeno per me, su un capolavoro dall'inizio alla fine. Fine spoiler. Detto questo, cosa sarebbe un eroe maschile senza una coprotagonista femminile? Dana Schellie viene inizialmente collegata alle braghe di Mulder per tenerlo sotto controllo, perché è considerato un disturbatore, un fuori di testa, una scheggia impazzita e altamente pericoloso. Non si fa mai i fatti suoi e rischia di mandare all'aria tutti i piani oscuri e diabolici del governo che trama alle spalle degli onesti americani. Ecco allora che Dana, dalla profonda formazione scientifica, inizia a smontare sistematicamente ogni teoria barocca di Fox. Purtroppo per lei, Mulder alla fine ha sempre ragione. E la povera Schellie si ritrova sempre, suo malgrado, a dover prendere atto che non tutto può essere spiegato scientificamente. In tutto questo marasma di cose che accadono, che si accettano ma non si comprendono fino in fondo, oltre ad alieni, agenti segreti, il governo farabutto e briconcello, ci sono anche gli altri X-Files. Ma cosa sono di preciso questi X-Files? Sono casi irrisolti, quelli per cui ad un certo punto l'FBI ha alzato le braccia arrendendosi, vuoi per un motivo o per l'altro. Disgraziatamente per i dirigenti del bureau, Mulder trova l'archivio di questi casi, collezionati dall'FBI sin dalla sua fondazione nel 1908, nascosti dietro ad altre migliaia di dossier, e uno ad uno inizia a studiarli attentamente e a risolverli, per quanto possibile, o utilizzandoli come riferimento per i casi inspiegabili più recenti. Giunti sin qui, avrete certamente intuito di che cosa tratterà questo libro. Ho scelto 30 episodi della serie e sono andato alla ricerca di possibili riscontri con la realtà. Si tratta di pura invenzione cinematografica o c'è qualcosa di vero dietro gli episodi? Ebbene, molto spesso gli sceneggiatori si sono basati su storie e fatti realmente accaduti, o autentiche leggende che qui ho riportato. Ho attinto da decine e decine di libri, alcuni antichi per avere notizie di prima mano, archivi storici, scandagliato il web e fatto un lavoro di correlazione alla ricerca della verità. O almeno una verità plausibile. Per ovvie ragioni non tratto la questione complottistica secondo cui il governo degli Stati Uniti nasconda o meno qualcosa per quanto riguarda gli UFO, o come li chiamano ora, ovni. Ma tratterò come bonus qualche caso ufologico di cui non si parla quasi mai, nella seconda parte del libro. Se paragonati ai più famosi casi come Roswell o l'incidente della foresta di Randallsham, che ormai troviamo raccontati e ribaltati in praticamente ogni libro di ufologia. Per questa sezione ho cercato alcuni dei casi ufologici più bizzarri, scegliendoli più per la loro consistenza surreale che per la loro risonanza mediatica. C'è poi un bonus, ovvero una terza parte del libro, che invece raccoglie dei veri X-Files, ovvero notizie bizzarre e inquietanti trovate mentre cercavo informazioni di tutt'altro genere sui libri che ho dovuto consultare per scrivere questo. Per il resto, diciamocelo, mi sono divertito come un matto a cercare e comparare casistiche nel mondo reale con i libretti di tutte le stagioni alla mano. Ho provato a scavare per quanto ho potuto, scoprendo anche delle cose che mi hanno sorpreso non poco, ma non voglio anticipare nulla. Una cosa da precisare, alcune puntate, anche se con storie diverse, trattano le stesse tematiche. Relativamente a queste ne prenderò solo una in esame, in particolare quella che ho reputato più significativa ai fini dell'indagine. Prima di continuare, vorrei ringraziare il quotidiano La Stampa per aver messo a disposizione il suo archivio storico, nel quale ho trovato moltissimo materiale per un confronto e una verifica dei fatti riportati in anni recenti su libri e siti web, comparandoli con quelli di prima mano. Devo ringraziare anche e soprattutto i ragazzi che gestiscono il sito web italiano dedicato interamente a X-Files, www.beyondesee.it, che mi ha aiutato a non perdere il filo logico e a rinfrescarmi la memoria su certi accadimenti. Se ora siete pronti, possiamo iniziare. E sappi che ogni tanto nel libro potrebbero esserci strane interferenze di uomini che fumano e vari deep throat. Per decodificare questi messaggi cifrati dovrete armarvi di un cellulare in grado di leggere i QR code. Vedi nota. A vostra scelta potrete anche fare una X con il nastro di carta sul vetro della finestra, puntargli addosso una lampada accesa e aspettare. Chissà che non si faccia vivo qualcuno infilandoti un dossier riservato sotto la porta. Pronti a scoprire cosa si cela al di là del grigio. Buona lettura, Massimo Maid.